Sono 80.653 nuovi casi di Covid in tutta Italia, di cui 5.911 in Sicilia, in base all'ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. Nella provincia nissena sono stati riscontrati 353 nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 110 sono di Gela, 84 di Caltanissetta, 38 di Niscemi, 30 di San Cataldo, 22 di Riesi, 14 di Mazzarino, 13 di Mussomeli, 10 di Sommatino, 9 di Serra di Falco, 7 di Santa Caterina, 3 di Milena, 3 di Montedoro, 2 di Marianopoli, 2 di Sutera, 2 di Vallelunga, 1 di Acquaviva, 1 di Butera, 1 di Campofranco e 1 di Delia. Ricoverati in degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta e uno proveniente da fuori provincia. Dimessi dalla degenza ordinaria due pazienti di San Cataldo e uno di Santa Caterina. Deceduto invece un paziente di San Cataldo positivo al SARS-CoV-2. Sono invece 314 le persone guarite dal Covid. Nel dettaglio 101 di Caltanissetta, 86 di Gela, 39 di Niscemi, 21 di Mazzarino, 11 di San Cataldo, 10 di Santa Caterina, 9 di Riesi, 8 di Butera, 7 di Mussomeli, 7 di Sommatino, 4 di Delia, 3 di Acquaviva, 2 di Sutera, 2 di Vallelunga, 1 di Bonpensiere, 1 di Campofranco, 1 di Montedoro e 1 di Serra di Falco.